Il Paradiso, episodi dal 17 al 18 aprile, Barbieri Collera per le bugie di Adelaide. Il Paradiso delle Signore 7 va in onda da lunedì al venerdì alle ore 16 e 5 su Rai 1 e in streaming su Rai Play. Gli spoiler della sua popera riguardo gli episodi di lunedì 17 e martedì 18 aprile. Riportano che Clara sembrerà essere stufa di far finta che il suo pretendente sia Francesco. Nel frattempo il commendatore Umberto nutrirà dei sospetti in merito ai comportamenti ambigui messi in atto dalla Contessa Adelaide. Vito, invece, sognerà di trasferirsi col Maria in Australia, mentre Roberto noterà che tra Gemma e Marco c'è un certo trasporto emotivo. Flora, infine, non reagirà granché bene scoprendo che il fidanzato si è messo alla ricerca della cognata. Nel frattempo Tancredi cercherà di dissuadere Matilde dall'indagare sull'incendio in fabbrica. A casa Colombo saranno ultimati gli inviti per il matrimonio di comodo tra Roberto e Gemma. Così quest'ultima comincerà a distribuirli alle sue colleghe del Paradiso. Clara, stufa di far credere agli altri che il suo corteggiatore sia Francesco. Sembrerà iniziare a pensare di dire la verità a riguardo. Marcello si sfogherà in caffetteria parlando con gli amici riguardo alle bugie di Adelaide. Umberto, quindi, rimarrà perplesso scoprendo gli ultimi ambigui atteggiamenti della cognata e inizierà a insospettirsi. Le anticipazioni del Paradiso delle Signore Sette, in merito alle puntate del 17 e 18 aprile. Evidenziano che se da una parte Vito vorrebbe palesare alla giovane Puglisi la sua voglia di trasferirsi insieme a lei in Australia. Dall'altra parte Vittorio proporrà alla stessa di rimpiazzare Flora nel ruolo di stilista del Paradiso. Dopo che Marco riceverà il ringraziamento del fratello per non aver detto nulla a Matilde. Quest'ultima dovrà fare i conti con l'arresto dei presunti artefici dell'incendio nella sua fabbrica di famiglia. Notizia che farà emergere vecchi fantasmi nella donna. La riapertura di tale caso. Come è lecito attendersi, intimorirà Tancredi, il quale avrà paura che il suo coinvolgimento possa venire fuori. Il legame fra Gemma e Marco sembrerà non essersi mai sfaldato agli occhi di Landy. Mentre Matilde e Conti dovranno avere un incontro lavorativo. Alfredo immaginerà il momento nel quale potrà far conoscere la fidanzata Irene alla sua famiglia. Nel frattempo l'amantia non saprà commenta volare la discussione con Maria in merito all'Australia. Infine Matilde sarà chiamata a testimoniare sul caso dell'incendio, ma il marito cercherà di convincerla a non farlo. Liric vorbintă ajungă la ea doar nasta cu racheta S'o admire nave spațiale de pe Andromeda Ăsta-i țelul, îl execuți ca pe Maria Antoaneta Aia de când mă știu textul-i plin de dude Dumele tante printre talea culte Încerc flow-uri sute la show-uri buite Cum rup capete lumea de din capă rupte Tobele bat cu inima deodată, nu le opresc Că nu-s atât de nebun, mă gândesc tu ce crezi Orice crezi ține pentru tine Fii egoist, dar liniștit și eu scriu rime pentru mine Pentru b-boy-ul din Grigo, DJ-ul din Dobrescu Grapper-ul din toți, o toți MC-ul care am crescut Pe scurt, de la un...